E' una bella cosa che ci siamo guadagnati, ci siamo guadagnati anche la CSI Playoff e in ogni caso metteremo tutto quello che abbiamo per finalizzare quello che abbiamo costruito fino adesso. Sono contento perché è una squadra che cresce di giorno in giorno, non solo il titolare, tutti quanti, quindi è un orgoglio tornare in palestra e vedere che i ragazzi anche se vincono si impegnano, vogliono andare, vogliono dare sempre il 100%. Questa è una squadra completa, è una squadra che può giocare, abbiamo due squadre di serie 3 che possono giocare titolare in questo campionato qua, ho fiducia in tutte le persone di questo gruppo qui, quindi sono contento quando mi ripagano così, quando li metto dentro.